decisamente tra i biscotti più buoni ammiriamo l'integrità del pacchetto prima che venga sfondato comunque per chi mi chiede la colazione con i biscotti è tanto buona ma non sfama se volete essere sfamati non resta che mangiare la frutta lo so che è triste però è l'unica cosa che sfama veramente io mi mangio questi e poi muoio di fame fino a pranzo però muoio di fame felice ecco felice spero sempre che non mi abbiano rovinato pure questi mmm mmm buonissimi adesso li proviamo anche nell'acqua che muoio tra l'altro hanno anche dei valori nutrizionali tutto sommato sani pochi grassi saturi zuccheri a palla ma quello non ti mangio il dolce se non vuole il zucchero pensano non sono così buoni sono spaziali pure nell'acqua abbiamo perso il biscotto è rimasto perso e nell'altro si vede che sono buoni anche dal fatto che si sfracellano il dolce che non si sfracella è merda raga mmm sono buoni sono contenta io gli do un 10 non tanto difetti non so se si vede tra acqua e latte è difficile dirlo forse il latte stempera un pochino la mano del biscotto ma è da gara buonissimi ancora uno poi basta però buonissimi il dolce buonissimi buonissimi Oh